Avrebbero commesso furti nelle abitazioni in diversi comuni della provincia di Bari. Per questo motivo i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carceri a tre persone. Due di loro erano già detenute. Le due persone già in carcere avevano commesso furti in appartamenti nelle contrade di Monopoli e Polignano a Mare. Nel primo caso erano riusciti a introdursi in casa forzando nelle finestre mentre i proprietari erano assenti. I due erano stati arrestati in flagranza perché l'auto su cui viaggiavano non si era fermata all'alto dei carabinieri, fuggendo ad alta velocità per evitare i controlli e dando vita a un inseguimento nel quale i ladri hanno provato a speronare l'auto dei militari. Nella fuga hanno gettato dall'auto un sacco nero recuperato dai carabinieri, al suo interno gioielli poi restituiti ai proprietari e sono stati fermati all'altezza del comune di Mola di Bari. In macchina c'erano arnesi da scasso e due orologi, un bottino di un furto commesso a Polignano. L'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP di Bari su richiesta della procura e è stata notificata in carcere. Ad Acquaviva delle Fonti invece è stato arrestato un 44enne ritenuto responsabile di un furto in una casa avvenuto il 18 maggio del 2022 in cui erano stati rubati preziosi dal valore di circa 8 mila euro custoditi in una cassaforte a muro aperta con chiavi alterate. L'uomo è ora in carcere a Bari.